Siamo felicissimi di aver organizzato qui in questa location d'eccezione che per noi è la città dei Rimini e rappresenta la casa della danza sportiva, questi bellissimi mondiali tra cui abbiamo anche un campionato europeo e tre mondiali quindi sono degli appuntamenti veramente importantissimi collegate e collateralmente ci sono anche delle gare a titolo internazionale ben 23 quindi veramente se possiamo dire una kermess di danza a tutti gli effetti in questa città che ci ospita oggi che ci ha ospitato nel passato e ci ospiterà nel futuro c'è un grandissimo progetto con il comune di Rimini e colgo l'occasione per ringraziare il sindaco Jamil Sabi Golbad che ha appoggiato questo progetto sinergico e condiviso attraverso il quale realizzeremo insieme il centro federale della danza sportiva quindi grazie Rimini per questo nuovo evento e soprattutto grazie per l'accoglienza veramente meravigliosa di oggi e del futuro di domani vi aspettiamo domenica 4 dicembre a Rimini per Tifare Italia vi aspettiamo numerosi noi ce la metteremo tutta e sentiamo il supporto dell'Italia vi aspettiamo il 4 a Rimini vi aspettiamo domenica 4 dicembre a Rimini per Tifare Italia